Risolvere così il problema riguardo al KB5027397 che si riferisce direttamente alla versione dell'aggiornamento di Windows 11.23.h2 Quindi in questo caso puoi direttamente scaricare e installare il tuo aggiornamento su Windows Update Però se hai il problema a scaricare così questo aggiornamento puoi sempre andare su Servizi, scendere fino a giù fino a trovare Windows Update E se su Windows Update è arrestato puoi direttamente fare Avvia Avvi così il servizio, ci clicchi sopra, Stato del servizio in esecuzione Tipo di avvio, metti automatico e fai applica Se in questo caso non dovesse funzionare il Windows Update è possibile sempre installare l'aggiornamento manualmente sul PC Quindi vai direttamente sull'aggiornamento sui Windows Update, cronologia degli aggiornamenti Come puoi vedere la versione 23.h2 per sistemi basati su Per64, questo qua è l'aggiornamento Se a te esce un errore copia lo stesso questo aggiornamento e vai direttamente sul link che ti ho lasciato in descrizione Che ti porterà sulla pagina del catalogo di Microsoft Update Catalog, questo qua Una volta fatto fai copia e incolli l'aggiornamento e fai ricerca Quindi in questo caso come puoi vedere l'aggiornamento è questo Versione 23.h2 per sistemi basati su RM64 Io ovviamente non posso scaricarlo e installarlo perché mi dice non è stato installato Perché? È perché io già lo tenevo installato perché l'ho fatto il 16 di febbraio Quindi una volta installato l'aggiornamento io non posso installarlo di nuovo Quindi mi tocca aspettare un'altra versione del 23.h2 per Windows 11 Quindi una volta fatto cerchi così il tuo aggiornamento qua sopra Fai su Download Il file mi raccomando deve finire come .msu Così facendo ti scaricherà un pacchetto di Microsoft Update Lo salvi e lo scarichi Una volta fatto ci richiamo sopra E lo installi Cerca così l'aggiornamento e lo installa Impossibile applicare l'aggiornamento al computer come ho detto Io ho già installato l'aggiornamento sul mio Windows Update Quindi il 16 di febbraio Lo scarichi e installi Quindi per altri problemi commenta sotto al video Fammi sapere se hai risolto il tuo problema riguardo all'aggiornamento del 23.h2 E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao 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 Ciao